13 agosto 2023 San Rocco con il signor voci Pantaleone, il suo manno Antonio, Pantaleone Manno, Antonio Ronieri, da dove venite? Siamo tutti della zona del Soveratese, della Ionica. Senta perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Perché siamo maestro e professionista. Allora ci fate sentire un assaggio? Cosa ci suonate? Cosa volete? Una tarantella, prego. Senta perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Perché siamo maestro e professionista. Senta perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Perché siamo maestro e professionista. Senta perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Perché siamo maestro e professionista. Senta perché suonate questo strumento antico. Senta perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Perché suonate questo strumento antico meraviglioso? Senta cosa è per lei la musica? La musica è tutto, perché senza musica non c'è nessuna cosa che è tutta una cosa difficile, senza musica la musica è tutto, praticamente questo è una musica tradizionale che ancora noi eseguiamo. Senti che strumento è? Spieghiamo. Questo si chiama la pepita. E che legno è? Erika, e questo è il noce mi sembra. Quindi erika arborea, che è proprio delle sarre calve. E invece questa è una corna musa? No. Una zampogna? Questa è una zampogna. E che differenza passa tra corna musa e zampogna? Molta. Queste sono cinque bordone e vanno accordate tutte e cinque con il canto e la melodia. Va bene, io vi ringrazio e vi auguro buona festa di San Rocco. Ormai col signore è un vostro noto a Brognaturo, ovunque ci vediamo. Sì, sì, vero, vero. Sentite, per coloro che ci guardano, vuole fare un saluto? Facciamo un saluto a tutti i paesani qui di Zimbario e tutte le persone che sono all'estero che in questo momento ci vedono anche tramite web. Va bene, grazie e buona musica. Allora signor Gigi.